Vediamo un po' come va, andiamo pianino pianino adesso inizialmente. Questo qua riprende sia davanti che dietro, visto? Tutto, tutto ti farò vedere, perché davanti c'ha quello a 180 metri più, ti fa due riprese. Questa è una 360 gradi? Sì, sì. Quella della GoPro, quella nuova. Ok, vieni dietro di me, o sarà? Ti sa che se la perdi, te ne accorgi, perché non dondola più. Esatto. Vai, vieni davanti a me. Vai, vieni davanti a me, vieni davanti a me, vieni davanti a me. Vai, vieni davanti a me, vieni davanti a me, vieni davanti a me. Vai, vieni davanti a me. Vieni davanti a me. Vieni davanti a me. Quindi proviamo? Sì! 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 Sì!